Se cerchi la bontà e la freschezza di un gelato artigianale preparato all'istante, grazie alla tecnologia Ice Roll, l'indirizzo giusto è benessere in frutta. Viale Cassito, Avellino. La gamorra ride di noi, i clan fanno salti di gioia per la crisi che sta attraversando 115 passi. E' questo l'amaro sfogo di Francesco Iandolo, il referente provinciale dell'Associazione Libera, il maglificio che due anni fa venne alla luce nell'ex villa bunker 15 di uno dei componenti del clan Graziano. Un bene confiscato che attraverso la produzione di maglie di vise per le forze dell'ordine doveva garantire occupazione per i giovani del posto e un'occasione di riscatto per un territorio da sempre segnato dall'egemonia dei clan. Il maglificio, che venne inaugurato il 22 ottobre del 2015 da una moltitudine di rappresentanti istituzionali e politici, tra cui anche la Presidente della Commissione Antimafia Bindi, per questione di sopravvivenza, è stato convertito in lavanderia. Su sette, cinque degli operai impegnati dietro le macchine dell'acquificio sono andati via. Le istituzioni, in tutto questo, anche loro sono in fuga. Francesco, già una sconfitta questa da parte delle istituzioni rispetto alla camorra, perché questo era il principio iniziale. Ma diciamo che da quello che sappiamo, insomma, in questo momento la camorra ride per quello che si fa in questo posto. E per noi, insomma, questo è inaccettabile, perché questo è e resta un posto che parte dalla ferita di tanti morti, tante vittime e tante vittime innocenti, e deve raccontare il riscatto non nostro, il riscatto di un intero territorio che decide non di combattere a petto a petto, ma che dice che noi preferiamo la strada della legalità a quella dell'illegalità. Intanto vediamo un'immagine che comunque fa male, le macchine per il maglificio sono ferme, non ci sono più i ragazzi al lavoro, da quest'altra parte invece vediamo anche qual è la vostra ultima mission, siete stati costretti a dirottare a livello artigianale altrove quella che era l'iniziativa iniziale. Sì, diciamo in questi mesi abbiamo fatto di tutto per restare aperti, per trovare insomma del lavoro che potesse consentire a questa struttura di rimanere aperta, quindi il lavoro di maglieria è sempre molto poco, adesso stiamo facendo dei lavori di lavanderia che ci consentono quasi quotidianamente insomma di essere aperti e quindi di proseguire l'attività proprio nella speranza invece di recuperare un po' di lavoro per poter riavviare poi in maniera seria l'attività. Questa è la totalità dei ragazzi impegnati all'inizio sono andati via perché manca il lavoro? Sì, alcuni sì, insomma non tutti sono stati disposti a fare dei sacrifici perché ne abbiamo fatti e ne stiamo facendo tanti però non per questo ci arrendiamo. Noi crediamo che se in questo posto c'è qualcuno che ci crede, se ci fosse stato e se ci sarà qualcuno che ci crede molto probabilmente questo posto rinasce e darà opportunità non soltanto a poche persone ma questo è un luogo ad alto potenziale che può dare opportunità a tantissime persone del territorio.